Sei collegato a 800 volts. Eh? Perché? Perché? Per la prova del furto del portafoglio sul tram. Il minimo contatto con un punto sensibile del manichino provocherà una scarica elettrica. Ah. Stai a vedere, eh? Uai, ma sei scemo, uai! Ma che scemo! Attaccati al tram! Trami, solito tram, tram. Vabbè. Hai visto che ce l'ho fatta? Ah, bravo, Egisto. Ce l'hai fatta. Hai la mano di velluto, tu. Bravo. Cosa guardi, perla? Il portafoglio tiene uno stretto un'altra volta. No, 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 no Grazie a tutti